Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video che oggi giochiamo a Wii Party! Spero che mi stiate sentendo. Passo un po'. Se mi sentite almeno, lo spero. Allora, cosa giochiamo? Trovo la coppia, dai! Spero che mi stiate sentendo. Principiante, non dal meglio. No, principiante, dai. Sono un gatto. Mi sentite? Lo spero proprio. Lo spero proprio. Mi sentite? Lo spero proprio. Io sto gridando, spero. No, non voglio scelta la tua spiegazione. Insomma, ve lo spiego. Dovete trovare due mie uguali. Ecco questo. Questo è due mie uguali. Ok. vecchi. Tu, mi convinti. Hmmmm. Aranjone. Tu, per favore. addio no vabbè come ho fatto eh anche se non ti conosco vieni tu vieni però ho trovato una platina attenzione ricordiamoci che quella da cui occhioni è platina ricordiamoci poi lì si chiama Cica perché Cica hai visto? però si somigliano molto tutti i due Viola suetta non sono già dimenticato chi era Viola Sì vediamo speriamo di trovare un rosso o un platino arancione I don't know Questo qua? No, però sappiamo dove è un rosso, spero di ricordarmelo, e tu chi scegli? Ah, no, è stupida questa qua, ah, un minigioco, interessante, ah, le cose sono bella, io questo colo d'odore, è carinesimo, e poi vinco sempre, quindi, venite, buccianine, su, che vi do tanta pappa, Sì, però fatemi passare, grazie, su, venite, venite, ah, bravissime, sono mie, venite, 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 Cioè, guardate, sedici a dieci, come ho fatto ad arrivare a dieci, nessuno è mai arrivato a dieci, abbiamo vinto io, ah, 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 Ti scommettevo mille euro, che vincevo io, vinto sempre io, Oddio, lo sofferto che faccio, mi ricordo, dove stanno, ah, questo rosso me lo ricordo, ma l'altro dove era? Ecco, è lei, sì, ok, sei a zero, Giulio, tu mi convinci, azzurro, aspetta, ce n'era una sola, ah, tu, tizio, Eh, sono troppo brava, yeah, e ora? Tu, sei l'ultima rimasta, ah, no, lei era trattino, Ma non ho scelto lui, chi ti ha detto che ho scelto? Ma chi te l'ha detto che ho scelto lui? Ma dai, tu, va, va, grazie, ti ringrazio, grazie, 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 Ora, tu, ti ringrazio, grazie, potreste fare il coppia, siete molto carini insieme, Ehi, perché non avevi fatto quel segno? 16 a 0, no, va bene, no, sì, ho vinto Oh, il viola, il viola, chi c'ha venuto il viola? Tu c'è un viola a te? Tocca a Cica la gallina, tocca a Cica la gallina Dai, Cica, vai Dimmi dove hai visto un viola, perché io non l'ho visto Forse sono stupida io, Peppe Ma, allora lo sapevo che c'era un viola Ma non me lo ricordavo Intanto non vai Un'azzurro, bu, chi lo sa Mirella, tu dici? Nah, no Aha, tocca a me Guarda che carini, quei due viola Questo è appena Ehm 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 Vai Cica, sbrigati Ehm Ma si sta sentendo un po' della mia voce almeno Please Almeno sto registrando Vabbè, intanto ho vinto Non ci puoi far niente, Cica Non puoi batterne No, se quello l'ha biondo Non tratti No Grazie Grazie Brava Cica Brava Cica Io voglio provare questo biondo Che poverino Nessuno l'ha mai scelto Platino Oh Un platino Ma guarda Mi sembra di vedere un bel platino Un po' di tempo fa Eccolo qua Sto a 20 a 4 20 a 4 Giallo Tu Che non ti ho mai scelto Rosso Oddio Sono una coppia rossa Ho una coppia rossa No Forse Anche lei è capito No La coppia rossa è mia Lui? Nia Non è lui No Questo no Questo no Tutti ma non questo Devo contare Aiutatemi 1,2,3,4,5,6 Aiutatemi 10 Non lo so Sto contando a caso Quello con 6 Che è uscito Non aggiungiamo 1 14 11 Lo sapete che forse ha vinto Chica? Ah 1,2,3,2,5 Vabbè Ho fatto il numero preciso Giallo Non me l'avevo abitato E' completamente a caso Giallo Ok Almeno sappiamo la coppia rossa 1,2,3,2,5